È stata discussa presso la Commissione Sanità del Consiglio regionale la proposta di legge inerente alla disciplina del diritto di continuità assistenziale. La normativa, proposta e presentata in Commissione dal Vicepresidente Giulia Rodano, si propone di garantire al paziente il diritto all'assistenza e aumentare l'efficacia delle prestazioni integrate tramite una trasformazione virtuosa dei servizi già esistenti sul territorio. Sostanzialmente definisce un diritto da parte dei cittadini che hanno patologie croniche e che escono dal ricovero per acuti non guariti, come succede molto spesso e quindi hanno bisogno di percorsi ulteriori di cura, sancisce il diritto alla presa in carico. Il paziente non viene abbandonato dopo l'uscita dall'ospedale ma ha un responsabile di presa in carico che ne definisce il percorso assistenziale e quindi cerca di organizzare tutte le necessità che un paziente che ha un tumore o una malattia cronica o anche un semplice diabete possa nel modo più virtuoso possibile ricevere le cure necessarie. Questo significa senza istituire nuovi servizi evitare sovrapposizioni, ricoveri ripetuti, troppe analisi, quindi evitare problemi per il paziente e anche sovrapposizioni e spese eccessive per il sistema. Una legge condivisa largamente dalla Presidente della Commissione Sanità. Adesso bisogna vagliare questo progetto di legge e la sua compatibilità con il piano di rientro e con le attribuzioni specifiche del commissario ad acta. Però l'idea di questa commissione dopo un paio d'anni di attività è quella di volersi dotare di strumenti legislativi che lasciano un segno nell'ambito delle regole, quindi intanto ci dotiamo di regole virtuose. La loro attuazione poi è legata ovviamente alle contingenze economiche e alle specifiche del caso e del momento storico ed economico che viviamo. Quello a cui non vogliamo rinunciare però come Consiglio regionale del Lazio è lasciare un segno in termini legislativi di principio e quindi a dotarci di buoni principi immaginando che come abbiamo già fatto per l'Alzheimer se io fossi un malato di Alzheimer o se io fossi uno dei beneficiari potenzialmente della continuità assistenziale come vorrei essere assistito e metterci nei panni dei cittadini. Quindi dare degli strumenti che ci auguriamo di poter utilizzare concretamente noi al più presto ma che quantomeno potranno utilizzare altri o comunque si potrà utilizzare la Regione Lazio da chiunque sia rappresentata in maggioranza in opposizione e soprattutto i cittadini non appena si saranno usciti, speriamo presto, da questo momento di contingenza economica sfavorevole. Rimodulare la disciplina sul commercio e concedere ai negozianti un'aderoga alla data d'inizio delle vendite di fine stagione. Questo l'argomento dell'audizione tenuta dalla Commissione piccola e media impresa della Regione. Il tema nasce dalla proposta di legge a firma del Presidente della Commissione, Francesco Saponaro che intende in via transitoria e sperimentale concedere ai negozianti un'aderoga alla data d'inizio dei saldi. Abbiamo sentito tutte le sigle, sono venute 11 sigle, hanno detto in un modo incisivo, veloce e rabito il loro pensiero. Già lo sapevamo però loro ritengono che il saldo non regga più culturalmente. All'audizione hanno partecipato di Consum Lazio e Cilazio e Codici d'accordo nell'affermare la necessità di una revisione normativa. La realtà è che oggi i saldi probabilmente non esistono, i consumatori si trovano a comprare prodotti che sono rimanenze di presaldi. E quindi come riformare la legge nel rispetto delle tutele del consumatore? Allora, dal 1999 ad oggi il comparto si è notevolmente evoluto. Sono nati outlet, sono nati ipermercati, anche ipermercati molto settoriali, soprattutto si è sviluppato internet. Oggi il consumatore acquista questi prodotti in maniera completamente diversa da quello che poteva essere il 1999. La legge di tutela del consumatore esiste, è in particolare il Codice del Consumo, Decreto Legislativo 206 del 2005, in particolare l'articolo 130, lo voglio ricordare, anche i prodotti acquistati in saldo o in promozione sono garantiti per legge. Il direttore commerciale della Fiera di Roma, Antonio Bruzzone, il presidente della Roma Investimenti, Antonio Tagliamenti, sono stati chiamati dalla Commissione Piccola e Media Impresa per relazionare sulla gestione delle attività congressuali, ad infiammare gli animi la possibile creazione di una società che gestisca l'attività congressuale capitolina tramite la Fiera, la Nuova Nuvola dell'Euro e il Palazzo dei Congressi, fino ad allora sconosciuta la maggioranza. Una soluzione concordata da Fiera di Roma, Investimenti, Camera di Commercio e Ministero del Tesoro, che preoccupa maggioranza e opposizione alla luce della probabile lesione del principio di concorrenza. Questa nuova società, che tra l'altro spoglierebbe di un'attività strategica la Fiera di Roma e quindi della gestione della parte congressuale, fatta insieme ad altri partner pubblici importanti come Eurspa o Auditorium Parco della Musica, a creare un monopolio nella gestione del congressuale che lederebbe sicuramente la concorrenza dei piccoli o medio, ma anche grandi operatori privati romani. Consigliere, lei ha fatto un appello chiaro al Presidente Tagliavanti, un appello per presentare perlomeno un business plan di questa nuova società per ottenere i finanziamenti, in un periodo come quello attuale in cui è difficilissimo ottenerli da parte di un istituto di credito. Certo, mi sembrava doveroso. Io, consigliere regionale che vengo dal mondo dell'imprenditoria, dell'imprenditoria privata, so benissimo quanta fatica fa un piccolo e medio imprenditore, già normalmente, ma in questi periodi di crisi profonda ancora di più ad ottenere un finanziamento da una qualsiasi banca. sentire oggi in Commissione, cosa di cui io non sapevo assolutamente nulla, sentire in questa audizione che invece c'è una società investimenti che ha siglato un accordo, adesso io non so bene chi abbia siglato questo accordo, quindi non conosco i sottoscrittori di questo accordo, ma comunque nell'accordo stesso è previsto che si possa in qualche modo andare a richiedere finanziamenti senza predisporre preventivamente un piano industriale, beh, questo è fuori da ogni logica.